Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darkfalle Channel con un nuovo video sul canale Oggi come stai vedendo da queste immagini sono qui a portarvi un nuovo gameplay dedicato a Squad Ovvero un simulatore di guerra in prima persona che è uscito su Steam all'incirca a inizio gennaio del 2016 Ovviamente ragazzi se volete acquistarlo potete benissimo cliccare il link qui sotto nella descrizione A un prezzo super giù di 35€ Ovviamente ragazzi questo non è il mio primo video gameplay su questo gioco Quindi se magari vorreste avere più informazioni potete benissimo cliccare la playlist che trovate cliccando lei qui in alto a destra Ovviamente mi trovo sulla mappa Full Roads ovvero queste mappe in mezzo nel bosco Siamo miliziani contro russi e vediamo che cosa riusciamo a combinare Ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su se volete sostenere questa serie E vi invito anche a lasciare un commento se avete qualsiasi suggerimento da darmi O se avete qualsiasi domanda o perplessità riguardo a questo gioco Comunque abbiamo già conquistato un punto sulla montagna Adesso ci stiamo spostando verso giù per andare a catturare insieme alla squadra alfa Il punto che vedete là sotto Ovviamente penso di fare come nello scorso episodio Ovvero vado a giocare per una ventina, trentina di minuti E poi vado a prendere le parti migliori o robe varie Comunque Ok ci stiamo davvero davvero avvicinando Sono qui davanti a noi Ok il punto da catturare se non sbaglio è in mezzo a questa sorta di canyon È un canyon? Sì è là sotto E sento tanti tanti spari però non vedo i nemici Una bella granata Ok questa qua è la mappa dell'altra volta Solo che le stiamo prendendo da un punto diverso Perché la scorsa volta eravamo dei russi È quello di catturare l'ingresso della miniera se non erro Lì c'è uno ragazzi Non so se lo vedete O è una scala È una scala seriamente? Pensavo fosse un nemico Perfetto Quindi già ci siamo fatti spottare inutilmente Comunque un attimo corrighiamoci a terra E vediamo i nostri compagni di squadra che stanno facendo Sono là dall'altro lato Ho beccato una granata nella faccia Ragazzi allora con calma c'è qualcuno che lancia granate sotto l'arma Che me l'ha tirata bella in faccia Eh sta continuando a tirarmele Bene Penso di che dovrei andare insieme alla mia squadra Che si trova là sopra In mezzo a quelle rocce Quindi porca paletta curami Non capisco ragazzi queste esplosioni da dove arrivino Sono morto Così A caso Seriamente Ci sanno davvero pesanti questi con le granate Anche troppo E devo riuscire a capire da dove cavolo arrivino Allora qui sotto Oh hanno dimesso i fumogeni rossi I nemici Quindi Proprio per farci spottare la posizione E dire che stiamo assaltando da questo lato Ecco perché stavano tirando tutte quelle granate là sopra E che prendi Siamo rispottati da qualsiasi parte della mappa Ok Vediamo se riusciamo ad avanzare insieme a concrete 573 Già dal nome ispira tanta fiducia Oh qui c'è uno Ammazzato Ma c'è vero l'ho salvato io a questo Chi se ne frega L'importante è ammazzare Sì mi ha dato la kill dato che ho 99 punti Comunque questo qua ci stava rasciando da sto lato Mi avete consigliato di mettere il colpo singolo Sulla distanza Ed ha avvicinato ovviamente il colpo automatico Solo che per ora siamo in campo abbastanza aperto E ci conviene tenere il colpo singolo Ok È arrivata anche la squadra 1 dall'altro lato Ok oggi mi sento leggermente più tattico Gioando con la squadra Ok sparito per tutto C'è qualcuno dentro questa casa Sono sparato da destra Ah è un medico Grazie mille Grazie Grazie Ok sento movimenti Eccolo Lì c'è uno L'ho preso L'ho preso L'ho preso È morto Sì è morto Ok Buttato giù Signor Idard Mi serve il suo aiuto Mi potrebbe curare Idard Mi curi Mi curi Non mi può curare Perfetto Direi un attimo di nascondermi dietro questo albero abbattuto Ok E stiamo qui un attimo Vediamo se ci risale la salute Ok ragazzi Allora Sono riuscito a farmi curare dal medico Ho messo un pochino in pausa Perché dovevo parlare con quello che non mi capivo assolutamente Adesso direi che possiamo avanzare insieme a Concrete Che è ormai il mio compagno di morte Perché siamo completamente in campo iper aperto E ci sparano praticamente da qualsiasi lato Vediamo se riusciamo a mimetizzarci in mezzo alle piante per avanzare 100 spari per venire da questa casa davanti a noi Mi hanno ammazzato Porca paletta C'è un medico però dietro di noi Cazzi Non ci posso credere Ma il nostro medico è un eroe Ci è venuto in mezzo alle piante per curarmi I love you man Amore nel campo di battaglia Comunque Allora Siamo stati curati al massimo Non male che c'è il medico E la prima volta vedo uno Medico così avanzato Qui c'è il nostro Altro un po' di squadra Ovvero Colgo Come cavolo si chiamava Che è morto E eravamo morti praticamente tutti Tranne il medico E stanno tirando fumogeni A go go Di sicuro dentro quella struttura c'è qualcuno Più di qualcuno E' problema che in mezzo a questi alberi Si può lottare soltanto Ecco lì c'è uno Si può lottare soltanto con i ricati Perché se ti alzi ci sono gli alberi davanti alla faccia E non ti fanno vedere niente Ok comunque Il signor concrete è stato rianimato E lì dentro ovviamente è pieno di nemici Fin troppi nemici Hanno messo anche queste cose qua davanti Che vengono create dai giocatori Che facciamo? Gli lasciamo là sotto? Ci sta andando strisciando Ok avanziamo anche noi E il medico ovviamente rimane dietro Se nel caso dovessimo morire Ok Siamo qua sotto Carichiamo Quello è dei nostri Che sta Cuorendo come un pazzo E qui c'è l'arma di qualcuno Che sta facendo? Oddio Non ci credo Può veramente scavare? Signor concrete Abbiamo beccato un genio Gli sta scavando sotto le difese Seriamente Sì Gli ha tolto praticamente il muro Sì Ovviamente queste qua sono cose create ai giocatori Come ho già detto Adesso dobbiamo stare con gli occhi aperti Ecco perché Perché qua già c'era uno Che mi ha ammazzato Dai stavamo facendo molto Sneaky Bicky Lake Invece niente Comunque c'è tutta la nostra La squadra 2 Che è arrivata qui Quindi penso che Posso essere rianimato Spero Allora ragazzi Non siamo riusciti a catturare la miniera Come l'altra volta È bloccata Quindi la nostra squadra La squadra 2 Si sta spostando Verso nord Perché come vedete C'è lo spawn point degli avversari Cioè almeno c'è lo spawn generale Quindi si prevede Che i nemici provengono da questa parte Comunque sto seguendo concrete Bù perché mi fa simpatia E ci stiamo spostando Ah ok Adesso ho capito perché Non siamo riusciti a prenderlo Perché ci hanno isolato La parte sud E ci hanno catturato La zona nord E al frattempo Ci sono sempre i medici Che mi curano Quindi se Siccome ci hanno tolto Lo spawn point là sopra Non possiamo andare a catturare Questo qua sotto Perfetto Dopo ragazzi Penso che questa sia L'ultima azione Perché già da una quarantina Di minuti che gioco Ci sono stati parecchi Momenti salienti Quindi spero di riuscire A editare in modo decente Sto video Eh però sono morto anche In modo abbastanza a caso E vorrei riuscire a capire Come sono morto magari Grazie al vostro aiuto Comunque ho cambiato squadra Mi sono spostato dalla Nella 3 se non sbaglio Dalla 2 alla 3 Perché probabilmente Questi qua avevano Uno spawn migliore E invece la squadra 2 Aveva messo uno spawn Troppo lontano Ogni volta che si cercava Di tornare Si moriva a caso Comunque Questa cosa dovrebbe essere La strada Che ci porta Praticamente Verso la base Questi fumogeni rossi E blu Penso siano Dei capi squadra Che hanno la possibilità Di tirarli E ovviamente Penso che Ormai siamo riusciti A catturare il punto Oppure ci sono rimasti Qualche nemico Dall'altro lato Penso di sì Da come stanno sfarando Dunque si stanno sfarando A caso Che fare suppression fire Ci sono più fumogeni Che altro Questa è la guerra Dei fumogeni Se puoi c'è un fumogeno Vince Vince il nemico Non so se l'avete visto E se si riuscirà A vedere su youtube Sì è pieno di nemici Da sotto ragazzi Sono riuscito A ammazzare qualcuno Perché da 99 punti Sono passato A 135 Vabbè buona Ok Un attimo Metterei il fuoco automatico Dato che ci stiamo avvicinando Parecchi nemici E vediamo se riusciamo A flancarli da sotto Anche perché Bisogna vedere dove cavolo Hanno lo spawn point Questi russi Cioè o l'hanno buttato dentro O l'hanno buttato dentro Lo spawn point Ma so se si può Passare da sotto Senza che ci ammazziamo Da soli Perché i nemici Dovrebbero essere Tutti qua sopra Sì Dovrebbero essere Qua sopra Però penso Che non ci possiamo andare Se no già Qualcun altro Ce l'avrebbe pensato Vediamo Se col zig zag va Sì Perfetto Questi sono tutti I nostri Questo qua Dove si è messo Ah e là c'è il nemico Non so se l'avete visto Oddio che casino Ok ammazzati Corichiamoci Eh non ci siamo messi Benissimo con la vita Però sto rush Ha funzionato Facciamolo per la patria Ho sparato a caso Totalmente Forse qualcuno Sono riuscito A buttarlo giù No Corichiamoci di nuovo a terra Comunque si sono rimasti Gli ottimi nemici Dentro quel bunker E stanno sfrando Come dei pazzi Attimo dire di Abbassarci qua sotto Ah vero Ho anche le granate Quindi appena ci curiamo Gli tira una bella granata Là dentro No Ha pushato contro Cavolo Ho sbagliato io Se gli tiravo una granata Potevo sbloccare Tutta la situazione Però niente Questi qua adesso Ci stanno pensando Di flancare come me Vabbè Almeno ci ho provato Quindi poi ragazzi Potremmo concludere Questo video Con un cap Della base Grazie a noi Però penso Che i nostri compagni Di squadra Ce l'abbiano fatta Senza di me Vi ricordo come sempre Lasciate tanti like E commentozzi E ci becchiamo alle 17 Con un nuovo video Ciao ciao